A TP ancora dibattito, verbale d'incontro per l'azienda di trasporto pubblico, la CGL spiega perché non ha firmato, intanto si avvicina al referendum del 1 aprile. Arrivano i finanziamenti, danni a seguito dell'alluvione, la regione ha stanziato 1.847.000 euro per la sistemazione delle strade più interne. Intanto Confindustria torna a sottolineare l'importanza della realizzazione del tunnel in Fontana Buona. Benzene e rifiuti, il commissario di Rapallo fa il punto sulle criticità e i temi principali della città. Liguria e Emilia, si torna a discutere di impianti di collegamento tra i due versanti del Monte Bue. Pazza primavera, dopo il caldo della settimana scorsa sono tornati freddo e vento. Distretto bio a Varese Ligure, l'assessore regionale Barbagallo esalta l'unione dei produttori della vallata del Vara. Buonasera ai telespettatori del TGT Guglio. Allora, come detto, incominciamo parlando nuovamente di ATP. Cresce il dibattito e mentre si avvicina la data del 1 aprile referendum sull'accordo, il verbale dell'incontro per l'azienda di trasporto pubblico non è stato firmato dalla CGL. Sentiamo insieme perché. ATP, come abbiamo ribadito in questi ultimi giorni, si va verso il referendum e l'appuntamento è per primo aprile. Intanto, ieri sera c'è stato un incontro. Che cosa è successo? Sì, ieri sera da parte degli avvocati dell'azienda e dei vari soggetti, provincia, regione, sindacati, c'è stato un incontro nel quale sostanzialmente l'idea era di ribadire che l'accordo dice che dal primo di maggio vengono ripristinati gli accordi aziendali, salvo quello del 2009 che si sapeva che era disettato e che da quegli accordi viene riconosciuto il 70%. Questa cosa è stata verbalizzata nella speranza che questa cosa aiuti, diciamo, definitivamente a chiudere questa vicenda evitando il falimento. La Cigelle non l'ha firmato. Perché? La Cigelle non l'ha firmato perché per coerenza noi ritenevamo che fosse già chiarissimo nell'accordo, tant'è che il volantino che sta girando e che invita tutti al referendum del primo di aprile dice che dal primo maggio vengono ripristinati tutti gli accordi aziendali dei quali verrà dato poi il 70%. Del resto a nostro giudizio è logico, cioè se dal primo di maggio ci danno il 70% degli accordi aziendali è evidente che ripristinano gli accordi aziendali di cui ci danno il 70%. Aggiungo che l'accordo prevede che praticamente a partire dal 2016 gli accordi sono tutti reintegrati, di fatto, ma l'azienda ci ha detto e nell'accordo c'è scritto che per poterci restituire, speriamo, il 100% nel 2016 bisogna vedere come saranno i conti dell'azienda. E comunque perché è scritto così l'accordo per chi avesse ancora dei dubbi come si legge e come si legge? Perché è un accordo sindacale, ma è un accordo che deve essere presentato a un giudice fallimentare e quindi deve contenere, diciamo, una scrittura tale che il giudice fallimentare giustamente ritenga che siccome devono quadrare i conti non ci siano dubbi interpretativi per cui venga fuori qualche milione di qui e di là che non c'è e che quindi il giudice possa propendere per il fallimento invece che per la salvezza. E andiamo avanti con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato un commerciante della zona di 44 anni, è stato controllato mentre circolava in città a bordo di un'autovettura e è trovato in stato di ebrezza alcolica. Il livello di alcol nel sangue era di quattro volte superiore al limite consentito. Durante i controlli è inoltre emerso che all'uomo era stata sospesa la patente lo scorso anno, quindi è stato effettuato il fermo amministrativo del mezzo. D'anni a seguito dell'alluvione arrivano importanti finanziamenti dalla regione Liguria, oltre un milione di euro per la sistemazione delle criticità principali con le strade più interne. Sentiamo. 1.847.000 euro per il ripristino delle strade interrotte a seguito delle alluvioni dall'ottobre 2013 al gennaio di quest'anno. Sono stati stanziati oggi dalla giunta della regione Liguria su proposta dell'assessore alle infrastrutture Raffaella Paita. I finanziamenti riguardano 36 interventi in altrettanti comuni dove non esistono alternative viarie. Le risorse provengono dalle accise sui carburanti 2014, stimate complessivamente intorno ai 5,5 milioni di euro e in parte già utilizzate per interventi simili. I comuni beneficiari nel nostro territorio sono Burzonasca, Favale di Malvaro, Leivi, Mezzanego, Santo Stefano Daveto e Tribugna. Siamo ben lontani dall'avere esaurito tutte le richieste che ammontano a 36 milioni di euro complessivi, ribadisce Paita. Con queste risorse abbiamo voluto dare la precedenza ai borghi isolati, privi di viabilità alternativa e ai piccoli interventi distribuiti su tutta la regione. Contiamo in un'ulteriore tranche di finanziamenti provenienti dai fondi FAS 2007-2013 per effettuare lavori più grandi e per dare risposte ad altri comuni. I finanziamenti stanziati oggi, che verranno immediatamente trasferiti, serviranno a coprire il 90% di ogni intervento per rispondere in questo modo al maggior numero di richieste. Ci auguriamo comunque che il Governo stanzi ulteriori risorse per il maltempo che si è abbattuto in Liguria, chiude l'assessore. Salvatore Cozzolino, socio fondatore del Comitato Giulemani dal Fiume Entella, ha scritto al Presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, per richiedere l'annullamento d'ufficio della delibera di giunta relativa all'intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione comprensoriale di lavagna e contestuali opere strategiche. Il documento è stato protocollato proprio oggi in Regione. E parliamo anche questa sera della Fontana Buona, in particolare delle richieste avanzate durante il recente incontro a Cicagna. Dopo aver sentito i progetti regionali e le posizioni dei comitati, ascoltiamo adesso il punto di vista di Confindustria. La viabilità deve restare la priorità ed il tunnel Fontana Buona-Rapallo diventa sempre più fondamentale per agevolare i collegamenti e dare respiro alla valle. L'opera infrastrutturale in primo piano durante l'incontro a Cicagna con la Regione martedì scorso e se il punto sullo stato dell'arte è stato illustrato proprio dall'assessore Raffaella Paita, Confindustria è tornata a gran voce a sottolineare il lavoro svolto con gli enti sovracomunali proprio per il ponte di Carasco e per il tunnel. Siamo a chiedere con forza ancora più di prima il discorso per il tunnel che dovrà collegare la nostra Val Fontana Buona con Rapallo e viceversa ovviamente. Nella nostra valle era in evidenza già da tempo però adesso in questo momento siamo ancora più determinati e forse più uniti di prima. Rimborso delle bollette d'acqua per l'anno 2011, il Consiglio dell'Ambito Territoriale e Sociale 57 composto dai comuni di Lavagna, di Cogorno e di Nea ha deciso di utilizzare la somma a disposizione del lato al fine di sostenere le fasce più deboli attraverso il rimborso parziale o totale del consumo d'acqua sostenuto appunto nell'anno 2011. Le istanze dovranno pervenire entro il prossimo sabato 3 maggio. Ordinanza di benzene e rifiuti ingombranti a Rapallo. Sono questi alcuni dei temi affrontati oggi dal commissario del Comune. Sentiamo l'intervista. Il provvedimento per il benzene è stato adottato d'intesa con le associazioni di categoria e quindi quando è stato emesso è stato emesso con l'accordo dei commercianti, dei rappresentanti dei commercianti. Abbiamo ridotto anche il periodo di sperimentazione che nell'ordinanza era di due mesi, l'abbiamo ridotto a 21 giorni. Questo l'ho potuto fare perché ho sentito la dottoressa Brescianini della provincia, la quale mi ha detto che sarebbe è stato meglio un periodo più lungo di osservazione, ma che in tre settimane credono di essere in grado di poter dare un quadro preciso dell'impatto che questo provvedimento può avere sullo stato di inquinamento di quelle vie. C'è stato qualche giorno in cui i rifiuti non sono stati raccolti perché Aimeri aveva un numero inferiore al necessario, invece di quattro era arrivata ad averne una sola, mi pare, di mezzo operante. Devo dire che l'attività di sollecitazione dell'azienda fatta anche piuttosto vehementemente ha affrettato la soluzione del problema. degli ingombranti, questi sono frutto della maleducazione probabilmente di qualche proprietario di seconda casa, mi dicono che piglia arrivano e buttano per strada ciò che, riaprendo le abitazioni in primavera, ritengo non debba essere più utile mantenere in casa e quindi non le conferiscono dove dovrebbero conferirle, ma in mezzo alla strada. Questo fenomeno è veramente inaccettabile ed è monitorato comunque adesso perché un 50% delle telecamere mobili in dotazione sono state posizionate in punti sensibili che sono in grado di contrastare anche questo fenomeno. Quindi la città di Rapallo è ampiamente stata tutelata sotto questo aspetto, sia per quanto attiene all'ordine pubblico che quanto attiene a determinati servizi. Intanto per le elezioni amministrative a Rapallo, sempre il commissario straordinario informa che in occasione della raccolta firme per la sottoscrizione delle liste elettorali è stato istituito un ufficio elettorale distaccato presso la sala consigliare del comune che dal 31 marzo serverà il seguente orario, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 al sabato, dalle 9 alle 13.00. E domani alle 19 presso il ristorante La Darsena Santa Margherita Ligure si terrà l'annuale assemblea dell'Associazione Insieme Santa nel Cuore all'ordine del giorno, in particolare la relazione del candidato sindaco Claudio Marsano. Adesso andiamo in montagna nei versanti di Liguria ed Emilia perché si torna a discutere di impianti di collegamento tra i due versanti appunto del Monte Bue. Sentiamo i dettagli. Il ritorno della neve di questa stagione definita buona dagli operatori richiama i temi sempre cari all'appassionato dello sci ovvero la possibilità di ampliare le piste e di collegamenti estate e inverno con il versante emiliano del Monte Bue. A questo riguardo a Ferriere si è tornato a parlare del progetto di rilancio turistico dell'Alta Valnure attraverso un progetto ridimensionato rispetto ai 13 milioni di euro ipotizzati alcuni anni fa che con una spesa massima e realistica di 4-5 milioni possa attivare un collegamento Liguria-Emilia realizzando per prima cosa uno ski lift più in basso versante emiliano in modo da poter ricavare un paio di piste da dedicare a famiglie e dai bambini. Ovviamente come ha sottolineato il sindaco di Ferriere gli obiettivi devono essere due raccolte nello stesso progetto ovvero da una parte la valorizzazione e il richiamo degli amanti dello sci verso l'Alta Valnure con impianti per la famiglia e poi il collegamento con Santo Stefano e Daveto che vanta naturalmente una lunga storia. Se a questo si aggiungesse anche poi l'assistemazione dello ski lift di Prato Grande che si trova in provincia di Parma e arriva a Piacenza potrebbe già essere questo un primo passo avanti. E ancora una bella notizia dalla Val Daveto si appresta a essere molto partecipata alla festa di primavera che è in agenda per domenica al Prato della Cipolla con musica, gastronomia, ski bar e igloo. Intanto è caduta moltissima neve sulle piste dunque nel fine settimana le condizioni sono anche buone è previsto bel tempo e allora sabato, domenica e lunedì gli impianti e i rifugi sono aperti e poi come detto la grande festa per dare il benvenuto di primavera la domenica al Prato della Cipolla. Ancora una notizia da Rapallo Fabio Mustorge è stato rieletto all'unanimità presidente della Croce Bianca Rapallese ieri sera si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle elezioni delle nuove cariche sociali vicepresidente Gian Battista Franco Bernardini segretario Mirko Passalacqua economo Carmine Migliaccio tesoriere Michele Castagna direttore sanitario Riccardo Sacchetti ed è in funzione il nuovo impianto di illuminazione a LED sul lungomare Kennedy a Riva Trigoso l'intervento ha avuto un costo pari a 50.000 euro ha riguardato sia il rifacimento dell'impiantistica sia la sostituzione dei corpi illuminanti risalenti agli anni 90 nei prossimi giorni sarà completato anche il restauro e la tinteggiatura dei pali di sostegno la decisione di utilizzare la moderna tecnologia a LED spiegano dal comune rende possibile il contenimento dei consumi energetici nella misura del 50% rispetto alla soluzione preesistente questo intervento consente inoltre di avere un impianto in linea con gli standard regionali in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso il consigliere comunale del gruppo Lazoagli che vogliamo Cesare Macciò lancia una proposta all'amministrazione di non noleggiare più le luminarie bensì di acquistarle direttamente oggi infatti dice esiste la nuova tecnologia LED che garantisce una durata eccezionale una volta messa a dimora una scarsissima manutenzione il costo principale delle luci attuali non è il noleggio delle luci stesse ma il costo degli operai che devono montarle si potrebbe dunque indire un bando per l'illuminazione permanente di alcuni siti cosicché una volta messi in funzione potrebbero essere gestiti direttamente dal comune adesso invece andiamo in regione Liguria sono stati illustrati i dati relativi a reddito e consumi per le famiglie e va meglio il settore invece del turismo vediamo diminuisce nel 2012 il reddito disponibile e calano i consumi e nonostante le famiglie intacchino i propri risparmi aumenta il numero dei nuclei in condizioni di deprivazione è quanto emerge dal rapporto statistico della Liguria 2013 il documento è frutto della collaborazione tra Istat Regione e Union Camere dalla fotografia del rapporto emerge che le famiglie in Liguria relativamente povere sono 64.143 pari all'8.1% delle famiglie residenti un valore superiore alla media del nord e del centro il calo occupazionale di circa 20.500 unità che si è determinato nel terzo trimestre 2013 facendo registrare tre punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente una perdita occupazionale che è risultata più forte per l'occupazione indipendente e per quella maschile rispetto a quella femminile oltre alla diminuzione del numero di imprese attive che a fine 2013 è risultata inferiore di quasi il 2% rispetto all'anno precedente e sotto la soglia delle 140.000 unità diminuito anche l'accesso al credito delle imprese che a metà 2013 è risultato inferiore rispetto ai due anni precedenti tra i fronti positivi il turismo nel 2012 c'è stato un incremento del prodotto interno lordo italiano di circa 7 miliardi di euro di cui un terzo generato all'interno della regione stessa e i restanti due terzi nelle altre regioni attraverso l'importazione di beni e servizi 47esimo premio Andersen a Baia delle favole il comune di Sestri Levante in forma che è prorogata fino a lunedì 14 aprile la scadenza del concorso per le favole inedite il bando è disponibile anche sul sito www.andersenpremio.it la cerimonia di premiazione al convento dell'Annunziata si terrà poi il prossimo 7 giugno in occasione dell'Andersen Festival in programma nella città dei Due Mari da giovedì 5 a domenica 8 giugno pazza primavera quella che è incominciata e dopo il caldo a cui ci eravamo abituati la settimana scorsa sono tornati freddo e vento vediamo pazza primavera ieri giornata tipica invernale con spruzzata di neve sulle colline dell'entroterra e abbondate invece a Santo Stefano Daveto dove questa coda invernale è accolta molto bene visto che il prossimo fine settimana si prospetta da tutto esaurito sulla costa la temperatura di 10 gradi con un violento vento da grecale durante la notte ha colpito in particolare le culture dei piselli delle fave tutti gli alberi da frutto in particolare pesche e albicocchi insomma chi pensava che il caldo della settimana scorsa potesse continuare si è sbagliato ne bisognerà attendere ancora una decina di giorni per avere la luna buona come dicono i contadini con queste condizioni in montagna si prospetta neve ma sulla costa si rischia spiega l'esperto Ivo De Lucchi abbassamenti improvvisi di temperature grandinate anche copiose che possono colpire una zona mentre a distanza di poche centinaia di metri via il sole insomma i ghiottoni che già pensavano di avere finalmente quest'anno un fave piselli a partire dalla metà di aprile sarà meglio che inizino con i prodotti di serra tornando alla neve nella Val d'Aveto è presto per fare bilanci tuttavia sentiti i principali operatori commerciali e ricettivi c'è cauto ottimismo e la crisi generale ha indotto molti levantini appassionati degli sci a fermarsi nella vicina Santo Stefano per fare una sciata rinunciando a bagare alle vacanze vere e proprie in alta montagna l'Anfas Villa Gimelli di Rapallo celebra l'anniversario dell'istituzione dell'Anfas nazionale avvenuta a Roma il 28 marzo 1958 in programma c'è un open day per la giornata di domani a partire dalle 10 porte aperte all'Anfas che accoglierà la popolazione nelle sue tre strutture Villa Gimelli Casa di San Michele Arcangelo e Casa Famiglia dopo di noi e poi per sabato mattina alle 9.30 è in programma una tavola rotonda sulla disabilità nel Tiguglio un'occasione di confronto a Villa Gimelli alla presenza delle più alte autorità del settore tra i presenti anche Paolo Cavagnaro direttore dell'ASL 4 Chiavarese e adesso invece parliamo di un nuovo progetto regionale che esalta l'unione dei produttori della vallata della Vara sentiamo di cosa si tratta la val di Vara si conferma valle del biologico parte infatti in quell'area al primo biodistretto della Liguria dopo riconoscimento formale da parte della regione si è costituita Varese Ligure l'associazione mista pubblico privata che governerà il biodistretto nei prossimi anni e che sancirà un modello nuovo di governance del territorio che vede comuni e mondo produttivo unite negli obiettivi al centro ci sarà l'agricoltura biologica come collegamento delle risorse locali sociali e naturali ma il biodistretto non si occuperà solo di agricoltura ma anche di turismo consapevole culture tradizioni locali salvaguardia del paesaggio delle risorse naturali voglio ringraziare tutti i comuni della Val di Vara dice l'assessore regionale dell'agricoltura Giovanni Barbagallo oltre alle organizzazioni professionali agricole all'associazione italiana agricoltura biologica alle cooperative caseare e a tutti gli agricoltori delle vallate per aver realizzato un'iniziativa di grande significato per il nostro territorio e la qualità dei nostri prodotti i dati rilevano che in Val di Vara un ettaro su due certificato biologico che in più il 25% dei produttori bioregionali risiedono e lavorano in questa valle numeri significativi per questo settore dell'agricoltura ligure che vogliamo rafforzare e chiudiamo con una notizia di sport ieri sera il Real Dave ha vinto il recupero del campionato di seconda categoria contro la Cogornese con il risultato di 2 a 0 grazie alle reti segnate da Marchi ed Arcari dunque è questa la classifica San Lorenzo 58 Moneglia 55 Rapid Nozzarego 49 Calvarese 38 Panchina 36 Real Fieschi Sant'Ambrogio 35 Levanto 34 Cogornese 31 Real Dave 28 Cornia Aurora Atletico Casarza 27 Aciassetta 25 Recco 2001 22 Boca Gastaldi 17 Bene con questi risultati ci salutiamo grazie per essere rimasti con noi anche questa sera la nuova edizione del Tg domani alle 12.45 adesso c'è il meteo poi vi lascio alla rubrica diritto e rovescio curata dall'avvocato Fabio Broglia vi ricordo anche che come sempre potete rivedere questa edizione del nostro Tg in replica alle 20 e 20 sul canale 117 Tguglio TV poi trovate le notizie anche sul nostro sito www.entellatv.net sulla nostra pagina Facebook su Twitter e sul canale Youtube trovate il nostro Tg Tguglio allora è davvero tutto una buona serata in compagnia dei nostri programmi Benvenuti al meteo ecco le previsioni per domani venerdì 28 marzo sul Mediterraneo si assiste a una progressiva rimonta anticiclonica che consente il ritorno di tempo stabile e soleggiato anche sulla Liguria con temperature in ripresa nel pomeriggio possibile formazione di attenzamenti nuvolosi sul centro levante 20 settentrionali tra deboli e moderati in rapida attenuazione fino a deboli variabili le temperature previste sulla costa 12 la minima 19 la massima nell'interno 10 la minima 18 la massima mare da mosso poco mosso già mattinata 20 la massima 20 la massima 20 la massima Grazie a tutti.